Come arricchirsi senza follower con YouTube e Instagram? Sì, va bene, un titolo clickbait, lo ammetto, sono un farabutto, sono un farabutto, però seguimi lo stesso in questo video perché ti racconterò come uno dei ragazzi che seguo solo a gennaio ha generato solo con Amazon 30.000 euro in un mese con meno di 50.000 iscritti su YouTube. Quindi non bisogna essere per forza Lion, Ciccio Gamer, 2Players, Favij, Chi Vuoi Tu, non bisogna per forza avere milioni di follower per fare grandi guadagni. Se uno dei nostri ragazzi solo da un singolo cliente ha generato 30.000 euro in un mese, ovviamente alcuni di voi diranno ma 30.000 euro in un mese ma di cosa mi stia parlando? Noccioline! Per la maggior parte delle persone è praticamente il reddito lordo di un anno, per la maggior parte delle persone che hanno anche un buon lavoro. E questo si può fare anche con poche migliaia di influencer. Seguimi, rimani sintonizzato o sintonizzata perché in questo video scopriremo come. Ciao a tutti, sono Roberto Buonanno, lo stratega di Tolequinte, le più grandi influencer italiane e anche o soprattutto imprenditore di successo nel mondo del digitale. Per esempio sono titolare dell'azienda editrice di Tom's Adul Italia, TechRadar Spazio Games e anche e soprattutto un'altra volta, visto che siamo qua nel mondo dei social, titolare di Tom's Network, agenzia di management, che probabilmente quando guardi questo video potrebbe aver già cambiato nome, agenzia di management, leader in Italia. Con talenti del calibro di Lion, 2Players1Console, CiccioGamer, PlayerInside, quei due su server, Iacchidale e ogni volta che li elenco poi mi dimentico qualcuno che si offende a morte tipo Antonio Palmucci. Attenzione poi, non ho mai detto e non dirò mai che per esempio talenti come CiccioGamer li ho creati, cioè tipo, non è che sono tipo Pippo Baudo, no, Pippo Baudo è troppo vecchio per l'età media di YouTube. Ti ho creato io, ti ho creato io. Non dirò mai cose di questo tipo, ma alcuni li ho creati io da zero, alcuni li ho aiutati negli ultimi 11 anni a passare da una situazione di un tipo a una situazione molto migliore, quindi migliorando dal punto di vista di gestione finanziaria, gestione dell'impresa, ma anche solo fare passaggi di carriera fondamentali. Tantissimi dei più grandi influencer italiani di oggi sono diventati tali anche grazie per esempio alle grandi manifestazioni fioristiche che ho organizzato io, perché Tom's Network è stata, finché c'erano le fiere, poi c'è stato ciò che sapete voi che ha bloccato tutti gli eventi pubblici, e è la più grande, più importante agenzia di organizzazione di eventi con influencer d'Italia, a tal punto che altre agenzie concorrenti facevano il booking dei loro talenti tramite noi. Detto questo, molti però li ho anche creati da zero e di alcuni racconteremo anche la storia più avanti. Allora, adesso iniziamo a parlare di quello che è stato l'argomento clickbait che ho decantato all'inizio del video. Nei miei appunti ho scritto cose Fai un gancio emozionale, un gancio emotivo, come si dice in italiano? La tua vita è una merda. No, scusa! Ovviamente no. Allora, fermi. È possibile, oggi veramente, e io l'ho visto, fare da ragazzi in due, tre anni, in un anno, crearsi un lavoro solamente online, senza dover fare niente di estremo come cambiare paese, abbandonare la famiglia, oppure investire milioni, non esagiamo, migliaia di euro in corsi di formazione o lauree certificati e quant'altro. È possibile. Ti parlo del lavoro dell'influencer. È un lavoro che a me piace tantissimo e stupendo. Io stesso l'ho provato per diversi periodi della mia vita e evidentemente con cattivi risultati per quanto riguarda questo canale perché l'ho maltrattato tantissimo, ma ci sono stati anche periodi in cui io facevo oltre 600.000 visualizzazioni al mese con i miei video di gameplay di Minecraft e altri videogiochi. E poi, attenzione, dati alla mano, i video sono qui nel canale in privato nascosti e su Amazon, su altre piattaforme ci sono le statistiche, grazie a questo canale ho generato milioni di euro, ma ne parliamo un'altra volta. Altro piccolo disclaimer, uno, non bisogna avere milioni di follower per guadagnare bene su YouTube. Non pensare che per creare una carriera di influencer devi per forza arrivare a fare i milioni di iscritti come Mike Shosha, Favij, Lion, Ciccio, me contro te. No, certo sarebbe bello arrivare a quei livelli lì, ma attenzione anche con relativamente pochi, anzi pochissimi follower, si possono già creare dei fatturati pazzeschi, ovvero si può guadagnare come un direttore di banca per dire. Poi tornerò all'esempio dell'inizio che è quel famoso canale YouTube che solo a gennaio ha fatturato 30.000 euro ad Amazon con pochi iscritti. Allora, uno, non servono un milione di follower, due, non servono tanti soldi per iniziale, basta un buon telefono che può anche prestarti il tuo amico ricco, tre, a volte guadagnano in proporzione molto di più influencer piccoli rispetto a quelli grandi. In proporzione, attenzione, chiaramente uno come Lion con un libro guadagna più della maggior parte degli italiani tutta la vita, ma è anche questa un'altra storia. Ma in proporzione io conosco ragazzi con 8, 10, 20, 50.000 iscritti barra follower che guadagnano di più rispetto ad altri con milioni. Alcuni esempi possono essere i professionisti che grazie alla propria attività di influencer promuovono un business alla propria azienda o le proprie aziende o i propri servizi e di conseguenza non guadagnano dalla monetizzazione di YouTube, ma guadagnano dal fatto che guadagnano autorevolezza grazie ai contenuti sui social e di conseguenza prendono clienti barra vendono prodotti sui propri store e-commerce quello che è. Faccio un esempio, lo psicologo Luca Mazzucchelli bravissimo, guardate il suo canale perché è eccezionale, è una delle nostre punte di diamante come qualità, chiaramente dal canale non guadagna anzi addirittura per la maggior parte delle volte lui demonetizza i video per favore il suo staff lo fa, ma da quando ha un posizionamento di influencer soprattutto su YouTube le sue aziende riescono a fatturare molto di più perché cazzo, Luca Mazzucchelli oh, fai video con tutti, con la Maugeri, con Montemagno, con questo, quell'altro e allora è per forza bravo. Tu, da chi vuoi andare? Dallo psicologo qualunque o da Luca Mazzucchelli che l'hai visto praticamente con i più grandi personaggi italiani? Io sinceramente vado da Luca Mazzucchelli. Poi se non ci vado è meglio, però se proprio devo darmi una regolata preferisco Luca Mazzucchelli. E questo è il ragionamento che fanno tutti e anche giustamente. E anche giustamente. Perché in poche parole non si guadagna solo con la monetizzazione diretta. Ora, cos'è la monetizzazione diretta? È quando per esempio su YouTube ottengo il diritto a monetizzare che si ottiene dopo 4.000 ore di visualizzazione e 1.000 follower, non mi ricordo, e prende la forza vendita di YouTube, inserisci i pre-rolli, i bannerini e quantato sul tuo canale, detratto la sua percentuale e il resto va a te. Però chiaramente, siccome la media è dai 50 centesimi al massimo 2 euro ogni 1.000 visualizzazioni, capite che un influencer piccolo che già va bene fa ma roba, però magari 50, 100.000 visualizzazioni al mese porta a casa 50 euro, 100, 200 euro al mese. Che ci fai? È un simpatico arrotondamento, ti riesce qualche pizza in più la sera con la compagnia o con i fidanzati rispettivi, ma certamente non è un lavoro. Quindi dov'è che scatta il guadagno aggiuntivo? Scatta dai sistemi di monetizzazione alternativa. Cioè, se noi dovessimo solo basarci sulla forza vendita di YouTube saremmo tutti rovinati in questo settore. Ok? Premesso che tra tutti i nostri canali numerosi milioni di euro all'anno li generiamo, occhio, cioè non sto sminuendo un fenomeno, ma questi numeri sono collegati agli YouTuber soprattutto che generano decine e centinaia di milioni di visualizzazioni al mese. E io non posso insegnarti a diventare quello che fa cento milioni di visualizzazioni al mese. Perché di Lion ce n'è uno. Se io dicessi anche nello speciale evento che ci sarà a metà agosto e che come sapete sta bollendo in pentola e che come sapete avete già intuito da questo canale, dalla svolta che ho avuto la parte contenutistica di questo canale e da tempo che sto meditando, io non ti spiegherò come diventare Lion, ma posso spiegarti come diventare More Than Tech, Overvolt, posso spiegarti per assurdo anche come diventare Yachidale, premesso che lui il suo cammino l'ha fatto da solo, insomma viene qua e con tutti quegli oggetti di tortura che tiene nel suo laboratorio mi fa pezzi, mi analizza e poi ci fa anche un pasto per le formiche. No. Però, attenzione, posso spiegarti come impostare una carriera alla Yaki, poi di Yaki ce n'è uno solo. Mi ha già mandato un terremoto portati con le sue strumentazioni diaboliche, ma ti posso insegnare a diventare un vice Yaki di ricchia. State sintonizzate a metà agosto se ne parla. Quindi, prima cosa da fare che sarà anche protagonista e spiegato... C***o! Quindi, la prima cosa da fare che approfondirò molto di più nell'evento di oltre due ore live, nello speciale live che sarà verso metà agosto iscriviti qua per partecipare, ci sono tutte le informazioni in descrizione. La prima cosa da fare è scegliere una nicchia di valore. Ovvero, l'argomento del tuo canale deve essere un argomento di valore. Quindi, quali sono gli argomenti di valore? Beh, intanto ti dico quali non lo sono. Oggi come oggi il gaming non è una nicchia di valore perché c'è un sacco di competizione, canali enormi e si combatte a visualizzazioni. Cioè, adesso parlo sempre di YouTube, parliamo di Twitch. Vuoi fare lo stream su Twitch? Caspita, i top streamer passano decine di ore al giorno sulla piattaforma e hanno fino a 10, 20, 50 mila spettatori contemporanei. Sarebbe criminale da parte mia dirti adesso ti faccio diventare ninja. Quindi, scegliere una nicchia di valore. Finanza, tecnologia, moda, alimentazione. Le spiego tutte nell'evento di metà agosto al quale ti puoi scrivere qui. Secondo punto, devi avere una community di qualità e molto attiva. Perché? Perché, chiaramente, diversamente dal mio canale, che non ce l'ha ancora, ma si sta formando, ho i 17, i 18 che mi seguono da anni. Direzione al mio canale, perché nel mio canale gli ho cambiato argomento otto volte nel corso degli ultimi dieci anni. Gaming, poi tecnologia, viaggi all'esterno, imprenditoria, business. Adesso, aiuto chi vuole diventare influencer. Mi sono incasinato la vita. Fa niente, ma è un'altra storia. La tua comunità deve essere viva. Quindi, tu magari hai 3.000 iscritti su YouTube, ma tutti attivi e si vede nei commenti, si vede nelle interazioni e si vede nelle conversioni che porti. Perché a un certo punto avrai i link di affidazione di eBay, di Amazon, dei siti per comprare gli alimenti proteici per la palestra, dei siti per comprare il make-up. Avrai questi benedetti link traccianti che, praticamente, analizzano, conservano ogni dato legato a chi ci clicca sopra. e in questi link diranno esattamente quante persone guardando il tuo contenuto poi hanno cliccato e quante di queste hanno comprato. E questi sono i dati veri. Se hai una comunità attiva in una nicchia di valore, e caspita, lì sì che si fanno dei bei guadagni. Molto superiori in proporzione a chi ha milioni di follower, ma per forza di cose non tanto attivi quanto quelli che puoi crearti tu con una strategia specifica fatta proprio ad hoc. Linguaggio pulito e azienda friendly è fondamentale perché quando noi intendiamo far diventare la carriera di influencer un mestiere, volenti o nolenti, dobbiamo avere a che fare con gli operatori economici, con gli attori economici, con le aziende, perché tutto ciò che facciamo è collegato a un prodotto, a un servizio. È difficile pensare a canali di influencer che non facciano vedere niente. Anche chi fa ASMR fa vedere il sushi e senti un rumore di questo che mastica il sushi. E per assurdo, quando sono diventati di moda i canali ASMR di chi masticava i pezzi di sushi, ci sono stati più clienti ai ristoranti. Tutto è collegato a un prodotto, a un servizio. Tutto è monetizzabile. Il tuo linguaggio deve essere compatibile con quello delle aziende. Quindi pulito, educato, rispettoso e quando serve un linguaggio tecnico, un linguaggio competente, un linguaggio serio se si parla di cose serie, giocoso se si parla di cose più facete. Ok? Linguaggio all'altezza di essere considerato un influencer rilevante nel settore in cui le aziende operano. Vai, no, detti tre! Vabbè, allora, diciamo il quarto bonus, poi potrei andare avanti tre ore a parlare di queste cose, quindi ti invito qui sotto, iscriviti, c'è il link allo speciale live di oltre due ore che farò verso metà agosto. Iscriviti subito perché sarà fenomenale. Undici anni di carriera concentrati in quello speciale. Bonus! Non aspettarti che siano le aziende a contattarti. Muovi il tuo pesante sederone e sii tu ad entrare in contatto con le aziende del tuo settore perché è fondamentale per tanti buoni motivi. Innanzitutto mettiamo che fai qualsiasi argomento cioè alla fine qualsiasi tema nei commenti potete scrivermi ecco facciamo così lancio un contest scrivete nei commenti quei canali youtube che non hanno nessun risvolto economico nessun risvolto collegato ad aziende organizzazioni profit o non profit che siano. Le aziende non ti verranno a cercare perché purtroppo finché tu non le educhi al fatto che i tuoi profili social sono di alto valore per loro loro non ti possono conoscere né notare per tanti motivi a meno che tu non abbia fatto un lavoro pazzesco e tu abbia creato tanti link tante conversioni tanti contatti verso i siti o i profili social di queste aziende e loro abbiano un social media manager o responsabile dell'online molto illuminato devi essere tu a contattarli perché loro altrimenti vedranno solamente influencer top della classifica di settore quindi contattare tu e quando contatti le aziende educazione rispetto dati alla mano carta canta perché se tu dici solamente ho mille follower e faccio make up non apriranno neanche l'email o il messaggio sui social ma se spieghi che in questa specifica sottonicchia dei prodotti per la cura del corpo sei seguita da mille ragazzi che comprano tutto guarda l'ultima volta che ho trattato di crema solare idratante ho avuto 200 click e 100 prodotti acquistati ecco allora sì che secondo me otterrà l'attenzione potrebbero comunque non risponderti ma prima o poi qualcuno ti risponderà perché usando questo sistema alla fine carta canta i dati cantano ok potrei andare avanti delle ore ma non ce la faccio quindi mi raccomando iscriviti a questo canale qua sotto poi c'è una campanellina per attivare le notifiche attenti non saprai mai quando escono i nuovi video a un certo punto quando avrò un buon numero di commenti farò video solamente con le risposte ai vostri commenti mi sono ripetuto mi raccomando quindi seguimi sempre e per quanto mi riguarda è tutto ci vediamo al prossimo video e ricordati qui sotto in descrizione c'è il link per iscriverti all'evento speciale live mi raccomando ti aspetto ciao a Grazie per la visione!